10.000 pratiche di arretrato. Questa è la commissione di invalidità dell'ASL di Pescara e purtroppo non si vede una soluzione a breve. Siamo andati il 18 di novembre a fare una visita ispettiva, abbiamo interloquito con il dirigente, il dottor Polidoro, che ci ha illustrato le criticità, a cominciare dal fatto che la medicina legale è al 50% delle unità lavorative necessarie. Ma 10.000 pratiche di arretrato significa insistere anche nella vita intima, morale, affettiva delle persone che hanno un proprio caro, che dovrebbe essere sottoposto a visita, avere la sua invalidità o altri riconoscimenti e che purtroppo attende per mesi, per anni. Ci sono pratiche che aspettano da due anni, ma soprattutto non si vede una soluzione per recuperare questo arretrato. Le nuove commissioni dell'ASL che si autodeterminano nelle convocazioni hanno una possibilità di esaminare circa 200 pazienti al mese. Come recuperare queste 10.000 pratiche arretrate? È un grandissimo ritardo. E noi lo chiediamo all'assessore Verì e lo chiediamo al presidente Marsiglio. Lo chiediamo in queste feste, perché l'11 di gennaio, trascorsi quindi due mesi da quella visita, saremo sotto la direzione generale dell'ASL di Pescara, con tutti i parenti di queste persone, per protestare contro questa situazione. C'è una risoluzione che abbiamo depositato il 18 di novembre, ma per la sessione di bilancio. Probabilmente verrà esaminata a gennaio, ma non bisogna aspettare l'approvazione di questa risoluzione. Si possono attuare subito dei meccanismi che aiutino a licenziare queste domande in sospeso. Poi c'è un altro problema. Il giorno che siamo andati a fare la visita ispettiva, il 18 di novembre, esce un nuovo avviso per i componenti delle commissioni. Allegata c'è la richiesta che il dottor Polidoro fa all'ASL di Pescara. La richiesta è dell'11 novembre 2021. Hanno atteso un anno e soltanto nel giorno della nostra visita hanno pubblicato questo bando. Questo bando è terminato. Nei giorni scorsi sono uscite le gradatorie. C'è un solo medico che ha risposto e che verrà sottoposto a valutazione. unità non assolutamente sufficienti per integrare e per aumentare il numero delle commissioni. Questa situazione va presa di petto perché ci sono tantissime persone che aspettano e noi di fronte a questa debolezza non esiteremo a protestare l'11 di gennaio. Grazie a tutti.